Molti vedono Albert Einstein come uno dei più rinomati scienziati di tutti i tempi per la sua teoria generale della relatività. Tuttavia, che succederebbe se sapeste che lo stesso Einstein impocciava parti della sua teoria? E se sapeste che il governo ha aggiunto equazioni per confondere le masse e glorificare Einstein per essere parte della più grande macchina pubblicitaria che sia mai stata inventata? Che ne sarebbe se sapeste che le equazioni create da Einstein lui stesso non era in grado di risolverle? Da Tech Insider Science. Andiamo a vedere 5 cose che Albert Einstein ha sbagliato completamente. Non sono un vero sostenitore di Albert Einstein perché tutto ha a che fare con l'elettromagnetismo e non con la gravità. Fate attenzione quando leggo questo perché sarà veramente goffo e vi mostrerò con che abbiamo a che fare qui. Quindi 5 cose che Albert Einstein ha sbagliato completamente. Albert Einstein ha cambiato il mondo per sempre nel novembre 1915 pubblicando la sua teoria della relatività generale. La relatività oggi è l'elemento principale della fisica moderna, il motivo per cui esistono satelliti GPS e internet mobile. Ora questa è già un'affermazione falsa perché sono già state fornite informazioni da parecchi fonti che non c'è alcuna necessità che esistano i satelliti GPS. Funziona con cavi a terra e con i cavi sottomarini. Internet mobile funziona con i cavi sottomarini. Il 99 per cento dei dati internazionali passa attraverso i cavi sottomarini. Ma uno status leggendario non significa essere infallibile. Einstein fece molti errori e sviste e delle volte sbagliava completamente. Qui vengono spiegati 5 dei più grandi errori di Einstein. Numero 1. Nell'opera più famosa di Einstein si trova un errore rilevante, la relatività. Ci sono un sacco di errori nella relatività. La sua teoria della relatività descrive gravità, spazio e tempo in equazioni matematiche che nessuno aveva mai fatto prima. Questo perché si tratta di un sacco di palle. Ma per ottenere una matematica corretta Einstein ha dovuto creare un ulteriore numero costante e inserirlo nelle sue equazioni di relatività generale per bilanciarli. L'ha chiamata la costante cosmologica che permetteva alle equazioni di spiegare la natura immutabile dell'universo. Ma non molto tempo dopo che Einstein aveva pubblicato le sue equazioni, i fisici scoprirono che l'universo non era costante. In realtà si espandeva tutto intorno a noi ad una velocità vertiginosa. Ups, ok, così la luce non è costante, ok? Gli scienziati di fisici lo sanno. Questo non esiste nella relatività, va buttato via. Così Einstein abbandonò la costante cosmologica. Ma questo è stato un grande errore. Le equazioni avevano sempre bisogno della costante cosmologica e sono sicuro che hanno fatto così. Avevano bisogno della costante cosmologica affinché funzionasse la gravità. Gli scienziati adesso vedono la costante cosmologica come esponente di una misteriosa forza chiamata energia oscura che causa l'espansione dell'universo in una costante sempre più veloce. I campi delle gravità attorno agli oggetti deformano le onde luminose mentre li attraversano come un enorme ammasso di galassie. Voglio che facciate attenzione a quello di cui stanno parlando sulla velocità delle onde di gravità e di luce. Ogni volta che parlo di onde desidero facciate molta attenzione. Le lenti gravitazionali sono il modo migliore per misurare la massa di oggetti enormi e lontani. Inoltre ingrandisce le immagini degli oggetti veramente distanti in modo che gli astronomi possano osservarli da terra. Gli astronomi inoltre usano le lenti gravitazionali per mappare la materia oscura, una sostanza invisibile che costituisce circa l'85% della massa dell'universo. Creano le mappe osservando quanto la materia oscura piega la luce visibile. Simulazione della materia oscura dell'universo. Quindi questa è una simulazione. Non possono vedere la materia oscura. Devono usare le simulazioni. Ma Einstein pensava che le lenti gravitazionali erano troppo piccole per essere viste e ascoltato. L'idea è in gran parte inutile e non si è preoccupato di pubblicare le sue scoperte fino a quando un collega lo ha sollecitato. Questa valutazione è stata un serio errore da parte di Einstein a scartare l'idea, almeno all'inizio, considerando com'è importante oggi la tecnica. Infatti oggi è veramente importante, come dicono, la presunta veduta della via Lattea al microonde. La teoria della relatività di Einstein prevedeva la presenza di increspature nello spazio-tempo, chiamate onde gravitazionali. Concetto di onde gravitazionali nello spazio di un artista. Il concetto di un artista. Si tratta di un concetto d'arte. Einstein aveva già dimostrato che la materia può curvare lo spazio. Quindi succede solo che la materia in movimento nello spazio dovrebbe creare un'onda nella stessa maniera come quando cade una roccia in un lago e crea delle increspature. Ma le increspature nello spazio-tempo sembravano un po' troppo inverosimile per Einstein. Inoltre, quando cercò di scrivere una formula matematica per descrivere il funzionamento delle onde gravitazionali, non riuscì a farlo. Einstein non era in grado di estrappolare il funzionamento delle onde gravitazionali. Così bocciò le onde gravitazionali, anche se la sua stessa teoria prevedeva la loro esistenza. Stava per pubblicare il documento contenente quell'enorme errore. Per fortuna, un altro scienziato individuò questo errore prima che il giornale andasse in stampa. Einstein è stato in grado di fissare la formula delle onde gravitazionali e pubblicare la versione corretta, proponendo che esistono. Avrei scommesso che l'avrebbe fatto. Ma anche se la matematica indica che le onde gravitazionali sono reali, non le abbiamo ancora osservate direttamente. E questa è la stupidaggine. Ma anche se la matematica indica che le onde gravitazionali sono reali, non le hanno ancora viste. È in corso un'enorme caccia da parte dell'uomo per queste onde elusive. Esistono diversi rilevatori di onde gravitazionali negli Stati Uniti e all'estero e gruppi di fisici entusiasti. Quindi quello che stanno dicendo è che se anche Einstein ha presentato una teoria della gravità in realtà non esiste, ok? Loro hanno equazioni matematiche ma non hanno alcuna realtà delle onde gravitazionali. Andiamo avanti rapidamente. Einstein si imbatte nello stesso problema con i buchi neri. Le sue teorie ipotizzavano l'esistenza ma non riuscì a dar loro alcun senso. Diversamente dalle onde gravitazionali comunque non ha mai cambiato la sua idea. Abbiamo molte prove che i buchi neri non solo esistono, ma alcuni raggiungono milioni di volte la massa del Sole, incluso uno al centro della Via Lattea. Questo enorme buco nero di cui parlano è il buco nero rotante Interstellar. Interstellar è un film. Le successive idee di Einstein furono fondamentali nello sviluppo della meccanica quantistica, un ramo della fisica che studia le proprietà bizzarre di piccole particelle subatomiche. Infatti la ricerca gli valsi il premio Nobel nel 1921, un grande strumento nello sviluppo della meccanica quantistica. Einstein aveva seri dubbi, anche sulla meccanica quantistica e a suo credito molti elementi della teoria sono decisamente strani. Le insolite proprietà della meccanica quantistica suggeriscono che le particelle possono trovarsi in due stati allo stesso tempo e possono inviare informazioni l'una all'altra più rapidamente della velocità della luce. Persino i fisici che studiano la meccanica quantistica sono i primi diere che non lo comprendono completamente. Ma stiamo avvicinandoci sempre più alla dimostrazione che la meccanica quantistica è reale, quindi l'incapacità di Einstein di accettare la teoria potrebbe diventare nuovamente il suo più grande errore. Non riescono ancora a provare la meccanica quantistica. La meccanica quantistica non è nemmeno reale, pertanto tutti quelli che stanno studiando la meccanica quantistica in questo momento non sono in grado di dimostrare che la meccanica quantistica è vera. Nonostante tutti questi errori, Einstein ha ancora considerato uno degli scienziati più influenti di tutti i tempi. Dopotutto non si può rivoluzionare un campo senza fare qualche stupidata lungo il percorso. Quindi le onde gravitazionali, la meccanica quantistica e la relatività generale sono tutte teorie. Ed è un periodo duro dimostrare che la meccanica quantistica è vera e non si possono conservare le onde gravitazionali. Inoltre la teoria generale della relatività è piena di miseralibili buchi. Nessuno di questi può esistere. Fondamentalmente tutto questo è uno scherzo. Questo non è altro che una marea di farfugliamenti. E questo è quello che Nikola Tesla ci ha detto di guardare e di fare attenzione. Egli ha detto rettamente. Gli scienziati in questi giorni, si riferiva ovviamente ad Einstein e a altri scienziati, sono metafisici che fanno tutto quello che possono per spiegare l'universo sapendo che non è corretto e che non ha bisogno di essere corretto quando hanno le equazioni matematiche per ottemperare i loro programmi, di spingere le persone a credere che la gravità è la forza che fa funzionare l'universo. È lo strumento che viene usato dagli scienziati e dagli astrofisici per spiegare cose che non possono essere spiegati. Tutto quello che hanno fatto è stato propinare teorie che non sanno nemmeno spiegare ma che possono dimostrare che non la teoria della relatività in generale che però è già stata smentita. Faranno tutto quello che serve per tenervi lontani dalla verità. Grazie per la visione!